Una conclusione a regola d'arte a base di prelibatezze e sapori della tradizione gastronomica napoletana. È l'attività conclusiva del modulo di enogastronomia ed alimentazione che ha visto protagonisti i giovani alunni dell'istituto comprensivo Mazza Colamarino di Torre del Greco nell'ambito delle attività di Scuola Viva. Scuola Viva è un programma comunitario che usufruisce di quelle che sono le risorse provenienti dalla comunità europea, un'iniziativa fortemente voluta dall'assessorato all'istruzione della Regione Campania e mi preme dover ringraziare qui l'assessora, la dottoressa Lucia Fortini, per l'impegno che ha sempre dimostrato nei confronti dei giovani e per le nuove generazioni. Questo modulo l'abbiamo voluto perché la Regione Campania ha ancora molto alto il tasso di obesità infantile e quindi ci sembrava lo strumento più giusto per poter intervenire su una criticità, su una problematica che purtroppo affligge i giovani del nostro territorio, insegnando loro l'importanza di una corretta alimentazione, l'importanza di stili di vita sani. Un anno intenso di attività per la città di Torre del Greco nell'ambito del progetto Scuola Viva, l'El3 d'Union, quali sono le prossime attività che lei immagina per il prossimo anno scolastico? Ribadisco che questo nuovo ciclo di Scuola Viva troverà una sua realizzazione per altre due annualità. La Regione Campania ha anche messo in campo un altro progetto importante, auspichiamo che l'amministrazione comunale sia attenta a non perdere entro il 31 maggio questa opportunità, che è un'altra tematica che a noi affligge, quella della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che risulta un'altra possibilità che offriamo invece alle donne che lavorano per poter coniugare il momento lavorativo con il sacrificio che loro fanno ovviamente per le incombenze familiari. Un intervento realizzato dalla Formit Formazione Italiana in partenariato con l'Istituto Comprensivo della Città e finalizzato ad acquisire ai ragazzi la consapevolezza attraverso il cibo e i disapori delle proprie radici culturali, così come sottolineato dalla dirigente scolastica Deborah Minghelli. Con oggi chiudiamo il modulo nel quale i bambini si sono confrontati con gli alimenti, con le verdure, con la frutta, ne hanno scoperto le proprietà nutrizionali ma hanno anche imparato a cucinarli e quello è stato il momento più soddisfacente per loro, cimentarsi in cucina, imparare a combinare insieme gli alimenti e anche ripulire dopo. Come si è articolato l'intero percorso formativo? Il percorso è un percorso di 30 ore come tutti i percorsi di Scuola Viva. Abbiamo ottenuto alcuni incontri teorici a scuola ma che si sono ridotti al minimo perché i bambini in queste occasioni hanno piacere e hanno tanta voglia di fare e questa è la cosa più bella che il progetto Scuola Viva della Regione Campania ci mette a disposizione. I fondi per organizzare attività e laboratori nei quali i bambini imparano facendo fuori dall'aula, non seduti nel loro banchetto ma potendosi sperimentare a fare altro. L'evento, svoltosi in un noto locale di Via Aldomoro, alla presenza dei genitori, delle maestre e delle responsabili dei laboratori didattici, ha visto la partecipazione della vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, e del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Scuola Viva significa per loro avere la possibilità di conoscere un altro modo di fare scuola, quindi di sperimentarsi, di cimentarsi in nuove attività, di conoscere meglio i prodotti della terra, la diversità dei cibi, la manipolazione dei prodotti che a loro sono stati sottoposti, si sono divertiti e anche questo è lo scopo di Scuola Viva, fare in modo che i ragazzi vadano più volentieri a scuola, perché non ci sono soltanto le lezioni canoniche, ma c'è un modo per interessarli in maniera interattiva, rendendoli protagonisti. I bambini hanno avuto veramente la possibilità di costruire un progetto anche nel minimo dettaglio che ha dato loro grande soddisfazione e alla regione Campania ancora una volta la conferma che questo progetto deve necessariamente andare avanti. Il Comune è felice che le scuole ovviamente promuovano questo tipo di attività, così come la regione Campania. Io credo che questo tipo di iniziativa debbano soprattutto distogliere i nostri figli dall'uso del cellulare, dai social. Da un punto di vista di politiche giovanili, quali programmi, quali attività l'amministrazione comunale immagina per i giovani del territorio cittadino? Intanto, come sapete, noi improntiamo molto sullo sport e non solo sullo sport. Per esempio, stiamo organizzando un torneo di mini-basket che faremo prossimamente in Villa Comunale, così come un torneo di calcio che si farà nello stato della Turis con le scuole più grandi, ma parteciperanno anche le scuole dei ragazzini minore. Così come stiamo accanto a tante amministrazioni e associazioni sportive che possono essere un momento importante proprio per la crescita sostanzialmente del ragazzo. Un modulo di 30 ore nel corso delle quali i piccoli studenti hanno approcciato ed appreso l'importanza di un'arte antica ed indispensabile, la manualità. I bambini sono stati molto molto attenti a questo progetto. La cosa che ha interessato di più loro è stata la pratica. Loro i dolci, la pasta fresca. Noi abbiamo cercato di raggiudere un menù molto partenopeo, quindi un menù che richiamasse le origini campane, di Napoli, ma anche tradizionali. Cosa ha colpito di più nella manualità del laboratorio? I ragazzi. Ognuno di loro ha preparato un manufatto. Quindi ogni giorno che ci vedevamo, loro creavano dal nulla, praticamente da un panetto di argilla, ognuno di loro ha preparato un manufatto che è stato poi infornato da me e alla fine decorato. Sviluppare la manualità, secondo me, è al di là di tutto, al di là di quello che potrà essere un lavoro e per dissogliere l'attenzione che oggi molto, ma molto spesso, dai bambini ma dai ragazzi stessi viene riservata a tutto ciò che è tecnologia. Invece riscopriamo un attimo l'artigianato che è la cosa principale, secondo me.